Un incontro a stretto giro per capire finalmente che scelte saranno operate dall'azienda dal prossimo 1 luglio sui collegamenti tra Sulmona e Roma, per i quali sono in previsione ipotesi di tagli che penalizzerebbero i tanti pendolari e che sono assolutamente da scongiurare. Lo ha chiesto il sindaco di Pratola Peligni, Antonella Di Nino, al presidente della San Gritana, Pasquale Di Nardo. Sappiamo che il passaggio della gestione dei servizi commerciali dalla tua alla San Gritana potrebbe comportare un ridimensionamento dell'offerta e un servizio fondamentale per i nostri cittadini che quotidianamente si spostano verso la capitale, interviene La Di Nino, ed è il momento di conoscere le reali intenzioni di chi è titolare di scelte così delicate. Qualche settimana fa ho lanciato un primo allarme, interessando anche i sindaci del territorio e bisogna essere conseguenziali. Sul tavolo c'è anche la richiesta di attivare il terminal di scambio all'uscita del casello autostradale di Pratola Peligni per intercettare le corse che da Pescara e Chieti e da Vasto e Lanciano vanno verso Roma. Ha auspico una risposta in tempi brevi dei vertici della San Gritana nell'interesse dei nostri pendolari, conclude il sindaco di Pratola.